Dalle parti del San Nicola torna a vedersi qualcosa di simile ad un sorriso. Il Bari inanela la seconda vittoria consecutiva dopo la gioia esterna contro il Picerno. Quella con la Cavese è roboante, convincente e portatrice di ottimismo per il futuro, con la speranza di aver dato una svolta definitiva alla stagione grazie all'apprudo di Vivarini. Il nuovo tecnico dei Biancorossi ha cambiato poco rispetto alle idee di Cornacchini. È rimasta la difesa a tre e sono ancora tanti i cross per Antenucci. In compenso sono diminuite le occasioni concesse agli avversari e in campo, ma soprattutto sugli spalti, si respira un'area diversa rispetto alle scorse settimane. Bari sta pian piano recuperando quella fiducia e quell'entusiasmo che possono diventare l'arma in più nel giro NRC di Serie C. In casa non ce n'è per nessuno, dobbiamo esaltare i nostri tifosi, ci devono dare la forza perché chiunque squadra arrivi qui passa i guai, insomma. Quindi l'Ini Massi è una squadra oggi è stata molto attenta, molto concentrata. Hanno messo quell'umiltà, quell'applicazione di cui non si può fare almeno. La vetta è ancora lontana, ma i segnali di ripresa lasciano intendere che la promozione diretta è ampiamente alla portata del Bari. Vivarini accoglie anche le previsioni di scienza, suo collega del Monopoli, è rivelazione di questo inizio stagione. L'allenatore dei Biancoverdi dava i biancorossi tra le squadre più accreditate alla vittoria del campionato, nonostante il momento di crisi, anche se c'è ancora tanto da lavorare. Da parte nostra dobbiamo essere consapevoli della situazione, abbiamo queste potenzialità, perché quello che ha detto Scienza ci credo anch'io, perché chiaramente è una squadra che ha grandi potenzialità, però ancora dobbiamo affinare le cose che abbiamo fatto oggi, ci dobbiamo soprattutto convincere di quello che abbiamo fatto e di farlo con più velocità e con più cattiveria. Adesso l'impegno con la Ternana Capolista, un crocevia fondamentale per testare le ambizioni del Bari. Cinque punti di distanza dal primo posto, ma per i biancorossi è il secondo match casalingo e un San Nicola ottimista può fare la differenza, soprattutto perché per Vivarini servirà una prestazione oltre ogni aspettativa per avvicinare gli Umbri già domenica. Dobbiamo ancora migliorare su tante cose, perché la squadra deve essere convinta di fare queste prestazioni qua e ci vuole un'altra partita, un altro paio di partite ancora, però confido molto proprio sull'applicazione dei giocatori, dei ragazzi che oggi mi hanno dimostrato proprio voglia di voler fare certe cose e quindi spero che con la Ternana, che sarà una partita clou, spero che con la Ternana riusciamo a tirar fuori ancora il meglio di noi.